Un saluto a tutti i campanari di YouTube! Oggi mi trovo a Benevento, come potete vedere, e tra poco aspetteremo che suonino le campane della cattedrale, ovvero il Duomo di Benevento. Qua vediamo Palazzo dei Giovanni di Santa Severina, e qua, se non vedete bene, c'è la chiesa di Santa Moia del Carmine, detta di Sant'Anna. Ancora almeno due minuti, speriamo che almeno a luna suona qualcosa. Intanto aspettiamo, nel campanile si trovano nove campane, più due dell'orologio, quindi sono undici. E aspettiamo, anche perché la cattedrale è chiusa, però speriamo, chiedo che almeno faccio un cenno messa. A presto! Ma il top erano i fagioli, la massa minta con fagioli in corso, è veramente top. C'è qualcosa che è buono. C'è un fattore di qui. Ah, e poi? Le fagioli di questa è la fattoria, perché qui il po' delle cattedrale, perché inizia da molto la fattoria, 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 tra i soci e i propri dati. Eccole qui! A presto!